Il progetto Stelle sulla Terra si propone di spiegare un aspetto affascinante e complesso della scienza, l'astrofisica nucleare sperimentale. Le stelle infatti non sono solo punti luminosi nel cielo, ma veri e propri laboratori naturali in cui avvengono reazioni nucleari fondamentali per la formazione di tutti gli elementi. Il nostro obiettivo è svelare la ricchezza di questo processo e soprattutto mettere in luce il lavoro meticoloso dei ricercatori che con dedizione e precisione misurano queste reazioni nei laboratori qui sulla Terra. Abbiamo scelto di focalizzarci sul racconto di questo lavoro, spesso celato dalla sua complessità, perché crediamo che conoscere lo sforzo e la passione dei ricercatori arricchisca la comprensione del mondo scientifico e delle sue sfide. Stelle sulla Terra è un'avventura di comunicazione inclusiva, perché vorremmo che la scienza fosse accessibile a tutti, anche chi è cieco o sordo. Per questo abbiamo sviluppato strumenti che permettono di avvicinarsi ai misteri delle stelle attraverso i sensi, rendendo la conoscenza un'esperienza tangibile per tutti. Questo progetto è un cammino in continua evoluzione. Dante intraprendeva il suo viaggio nel mezzo del cammino di nostra vita e così ci sentiamo noi, a metà di un percorso dove stiamo imparando nuove forme di dialogo e di interazione, dove la meta è ancora lontana, ma è forte il desiderio di contribuire a rendere la scienza sempre più partecipata e senza barriere. Solo così potrà diventare un patrimonio condiviso e un reale vantaggio per tutti, e per dirla ancora come Dante, far sì che tutti possano riuscire a rivedere le stelle. Invitiamo tutti a unirsi a noi in questa esplorazione per vedere con nuovi occhi e toccare con mano le stelle sulla Terra.